Siamo con Angelica Tirone, il dirigente scolastico della Colozza, la scuola promotrice di questa splendida iniziativa Sport per la Vita. Come ha trovato queste due ore con il coach Capobianco? Sono state due ore veramente meravigliose, belle. Una lezione ci ha dato l'allenatore, Andrea Capobianco, non solo ai ragazzi, veramente li ha entusiasmati tanto, infatti non ho mai visto i nostri alunni così attendi e così con gli occhi che desideravano apprendere al massimo, però ho visto anche gli insegnanti molto motivati. In effetti noi lavoriamo insieme, la scuola, le società sportive, siamo noi che insieme ad altre associazioni, la parrocchia, possiamo fare il futuro dei nostri alunni. E quindi è bene che ci uniamo per loro. Siamo con Anna Lemme, l'insegnante di scienze motorie della Colozza. Dopo questa giornata con il coach Capobianco, cosa è in programma di fare la Colozza per continuare ad andare avanti in questo progetto? Anche perché diceva lei i valori dello sport, che sono anche i valori fondamentali nella vita. E possiamo dire che negli ultimi anni lo sport e l'educazione fisica, anche il governo lo sta mettendo un po' da parte. Sinceramente abbiamo fatto una riunione sindacale un paio di giorni fa e pare che vogliano rivalutare la figura degli insegnanti di scienze motorie, e quindi dello sport, proprio perché a livello educativo è fondamentale. I nostri progetti per il futuro è invitare di nuovo Andrea Capobianco, dopo magari qualche altra vittoria. E intanto sperimentiamo queste tre parole chiave, che già stanno avendo i loro frutti. E poi noi facciamo molto sia a livello pratico ma anche teorico, quindi educazione alla salute, quindi no alcol, no droga, no fumo, no doping, argomenti trattati oggi dal coach. Quindi è il via, speriamo, per una nuova formazione, una migliore formazione per i giovani.